Entro un mese l'Asi avrà un commissario. Felice Varotta ha rassegnato le dimissioni irrevocabili ed immediate dopo solo un mese di lavoro. Uno sfaldamento della compagine consortile. I comuni di Mercato San Severino e Battipaia, oltre alla Camera di Commercio, sono usciti dall'Asi, mentre la provincia di Salerno, che non ha ancora versato i 238 mila euro del 2015, è stata messa in more e dunque non partecipa alle decisioni collegiali. Poi la situazione della CGS, società interamente partecipata dell'Asi, impegnata nell'area del cratere da Battipaia nei servizi di depurazione, e lo stato economico stesso dell'Asi sono i motivi principali che hanno indotto Marotta a rassegnare le dimissioni. Ritengo che non ci siano le condizioni per il governo dell'ente con un'amministrazione ordinaria. Ritengo che ricorrano tutte le condizioni per la nomina di un'amministrazione, di un commissario straordinario, che riesca a conturre lente, almeno fino all'emanazione della legge che è in avanzato stato di studio della Regione, che prevede la costituzione di un'agenzia regionale unica per lo sviluppo, con contestuale soppressione dei consorziasi, che dovrebbero, ci sono vari disegni di legge, che dovrebbero diventare delle direzioni provinciali. Una valutazione di natura economica rispetto a quello che è lo stato di salute dell'Asi da qui a dicembre, e si prevede addirittura un disavanzo di oltre un milione di euro. Perché si arriva a questo? Di chi la responsabilità? La responsabilità di chi non lo so. Diciamo che la situazione è questa, che all'atto dell'assunzione della carica c'era uno scoperto bancario di oltre 500 mila euro, e che già oggi, a distanza di un mese, è levitato. E' la proiezione dei flussi finanziari che mi sono fatto fare dall'ufficio preposto, diciamo che evidenzia spese fisse ricorrenti e non rinviabili per oltre 2 milioni, a fronte di incassi quantificati, prevedendo pure che gli enti paghino, quelli che devono pagare, compreso la provincia, che nel 2015 e nel 2016 dovrebbero pagare 500 mila euro, cosa, per la verità, abbastanza difficile, abbastanza difficile, ammontano a 900 mila euro. Un disavanzo di oltre 1 milione e 100, 1 milione e 200. Per cui i numeri sono numeri, con questi risultati non si può andare avanti.